Ciao ragazzi, eccomi qui, scusate per questi video così un po' a capocchia ma non riesco con me a provare a fare i video migliori per vedere le serie così, faccio io solo, rimando anche questo che ho fatto, questo qui è da donna, con una cosa che ho scritto Andrea Angel Me, il dietro è così, vedete, con le mani, con il più gioco ci sono tutti i colori, ho trovato il mio negozio, questo è il mio, la posonera, ho scritto il mio logo, il mio genio, e il dietro, questi qui sono quelle che Silvia mi mette ragazzi, vedete il YouTube con quella che metterò la gas mic, niente, volevo farvi dire solo questi due acquisti fatti in modo da una ragazza, da donna e da uomo, che ci sono sul sito della mia pagina Facebook, nel mio negozio, ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video, spero di risolvere questo problema, di mettere dentro anche la sigla e tutto quanto, ma non vedo come riesco a fare, perché con il problema non riesco a registrare questa cosa, spero di... questo è un problema per voi, io vi saluto, vi abbraccio, grazie ragazzi, mettete un bel like, e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!